Foto e complimenti del mister e dei compagni sono tutti per lui, Simone Corazza, centravanti ritrovato e due settimane fa dato quasi per partente, che segna tre gol contro il Benevento. Sono felice per Simone perché ci sta dando una grande mano, sono felice perché si merita questi gol per come sta lavorando, per come si è posto dall'inizio del ritiro ad oggi, quindi fino a questo momento anche la sua presenza in campo è assolutamente meritata. Buono, per impegno e grinta messa in campo l'esordio in Serie B della neopromossa Alessandria. Secondo me questa è stata una partita dove ci ha visto approcciare molto bene, con il solito piglio, la solita personalità, il solito coraggio e siamo andati in vantaggio secondo me meritatamente. Tre gol ma purtroppo per i piemontesi zero punti, complici anche un rigore parato da Pisseri mentre i grigi erano in vantaggio per 1-0 ma fatto ripetere dal VAR. E poi due distrazioni difensive che Moreno Longo così commenta a fine partita. Bisogna capire che con tutto il rispetto per i giocatori di categoria che abbiamo affrontato fino adesso, faccio un esempio su quella palla lunga dove abbiamo preso il 3-2, Sau è un giocatore che merita un'attenzione diversa, quindi merita il fatto che su una palla lunga di 50 metri bisogna avere un'attenzione massimale, perché se non hai un'attenzione massimale un giocatore come Sau ti fa gol. Grazie. 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 Grazie.